Sono accusati di aver gestito un maxitraffico di stupefacenti con affari da oltre 200.000 euro e 4.000 dosi cedute nel giro di pochi mesi. Adesso è arrivata la prima stangata per la cosiddetta Nigerian Connection, la grande operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Arezzo che lo scorso ottobre aveva portato all'arresto di nove cittadini di nazionalità nigeriana e alla denuncia di altri quattro, di cui un italiano. 13 in tutto gli imputati accusati di detenzione di sostanze stupefacenti e fini di spaccio. Nei giorni scorsi l'accusa aveva formulato le richieste di pena, ma il GIP Pier Giorgio Ponticelli, nel rito abbreviato, è andato in alcuni casi anche ben oltre le richieste del PM Chiara Pistolesi. Il capobanda è stato infatti condannato a 5 anni e 4 mesi, erano stati chiesti 4 anni e 4 mesi con la concessione delle attenuanti generiche. Altri due imputati sono invece stati condannati a 5 anni, altri in oltre a 3 anni e 4 mesi ed infine a 4 mesi quelli con le posizioni più defilate. Durante le indagini militari erano riusciti a documentare oltre 4.000 episodi di microspaccio. Ognuno degli imputati aveva poi un ruolo ben definito all'interno della rete. Alcuni svolgevano infatti la funzione di esecutori materiali delle cessioni e di agenti riscossori, altri quella di incaricati dei contatti telefonici, di organizzatori degli abboccamenti e ricettori degli ordinativi, altri ancora cumulavano entrambi i ruoli occupandosi anche dell'attività di coordinamento dello spaccio al minuto.